Inizio su come convincervi, secondo me è sufficiente come argomento e voi che dovete convincervi se avete capito o no. L'argomento contro un campo magnetico, una componente del campo magnetico che sia parallelo al filo, ok? Quindi di nuovo io sto cercando di convincervi che se questo è il filo, e questo è un punto matematico, sto discutendo la possibilità che ci sia una componente del campo B che è parallelo al filo. Così. Grazie. Grazie. Devo riprendere la mia lezione di arte marziale. Allora immaginate che la corrente stia uscendo qua, ovviamente è un filo, quindi deve essere un'ultima analisi, ci deve essere un circuito no? Meno male è un filo che è un pezzo di un circuito e il circuito si deve chiudere, chiuderà all'infinito, deve fare in giro. Quindi un modo per pensare è proprio questo. Questo è il vostro filo, poi il primo poi deve ritornare in dentro e se volete questo rappresenta un po' il piano del filo. E immaginate un punto matematico. Eccolo qua, un punto matematico. E sto cercando di dire, ok, supponiamo dell'ipotesi che ci sia un campo così. Quindi in questo punto matematico immaginate che ci sia un campo che sta uscendo dalla lavagna. In questo punto qua c'è un campo che sta uscendo dalla lavagna. Quindi dovete immaginare che state sostenendo che in ogni punto dello spazio ci sia vicino al filo, cioè un punto vicino al filo all'istante, vicino al punto. Ci sarà una componente, state cercando di immaginare che conseguenza avrebbe avere un campo magnetico con una componente così. Ok? Quindi in questo punto la componente sta entrando. Quindi è come se ci fosse una curva blu di punti che sta seguendo il filo. Se questo è il piano del circuito immaginate il piano di questa curva blu. Eccolo qua, è una curva che sta seguendo la curva. Tutti i punti della curva blu hanno la stessa distanza dal filo in quel punto, no? In quella zona del filo. E' come una specie di curva ombra. E' una curva ombra. E' una curva chiusa che segue il filo vero. Ok? Quindi state immaginando che su questa curva blu ci sia una componente per campo B che è parallelo al filo. Quindi è una situazione un po' questa, no? Che su quella curva blu ci sia una componente lungo la curva blu che è parallela al filo. E quindi lungo la curva blu calcolate la circuitazione. Visto che dalla curva blu, per ipotesi, perché state voi immaginando che ci sia una componente sulla curva blu, avete che la circuitazione di B è diversa da zero, no? Ma come fa ad essere diversa da zero? Perché la legge di fisica di Ampere dice che la circuitazione è uguale a mu zero per la corrente concatenata, ma non c'è nessuna corrente concatenata della curva blu. La vedete? La curva blu qua è in un piano che è parallelo a quella del filo. La corrente qua non sta concatenando la curva blu. La vedete? Immaginare che ci sia una corrente che è parallela al filo, scusatemi, adesso sono proprio stanco, continuo a dire parole sbagliate, per fortuna non sono così stanco da non accorgermi, mi accorgo che dico una puttana, dico qualcosa senza senso. Perché le cose sono stupide, puttanate o senza senso. Quando uno è stanco spesso dice cose, io dico cose senza senso. la curva blu sono punti che seguono il filo. Sto immaginando che nei punti blu ci sia una componente del campo B che segue il filo. Invece di essere trasverso, invece di essere un piano trasverso, sto dicendo che c'è una componente nella direzione del filo. Eccola qua, componente, componente, quindi camminando lungo la curva blu a calcolarmi la circuitazione trovo un valore diverso da zero, non vi pare? Che non può essere perché non c'è alcuna corrente concatenata. Quindi queste componenti non ci possono essere. Quindi se questo è il piano trasverso del filo, il campo magnetico in questo punto non può essere parallelo al filo perché avrei una circuitazione lungo la curva che segue il filo. Quindi non posso avere la circuitazione quindi non ho questa componente. Non ho questa componente perché non posso avere il flusso di B. L'unica che rimane è un'altra componente che è sulla lavagna. Fuori dalla lavagna non posso averlo. Nella lavagna sì, ma non posso averlo così. Posso averlo solo trasverso. D'accordo? Meditate su questo fatto. Ok, altro commento che vale la pena fare. Alcuni di voi, anzi immaginate una cosa del genere, due cilindri coassiali. Faccio una domanda elettrostatica. Immaginate che sul cilindro interno, che è un filo se volete, potete anche immaginarlo come un filo di sezione puntiforme circondato da un cilindro. Questa è una generalizzazione di questo esercizio. Questa è la sezione interna del filo, la sezione del filo interno è un punto, questa è la sezione interna di un filo è un cerchio di raggio R. Immaginate su questo voi mettete una carica distribuita in maniera uniforme lambda zero e su quella esterna sparpagliate pure una carica che per unità di lunghezza è lambda zero, come il campo elettrico in mezzo ai fili. Come sarà? Quindi, visto il piano trasverso, se questo è il filo esterno, il cilindro esterno e questo è, se volete, il filo interno, costruite simmetrie, simmetrie cilindriche, quindi questo è un punto che è qua fuori, il punto matematico, questo è un altro che ha una certa distanza dall'asse dei fili, questo è un altro punto che ha la stessa distanza, per simmetria immagino che il campo elettrico sia uguale, tutti e due radiali, stesso modulo, non uguali, hanno direzioni diverse, ma il modulo è uguale. Legge di Gauss, no? Quindi, se io mi prendo una superficie di Gauss, per esempio questa lattina di Coca Cola qua, e il flusso attraverso i tappi sarà zero, avrò solo il contributo lungo la parte cilindrica del tappo, quindi il flusso attraverso la lattina di Coca Cola, compreso i tappi, latina di Gauss, dal punto di vista matematico, questo è il valore comune di tutti i punti che hanno la stessa distanza dall'asse, cioè i punti sulla parte cilindrica della lattina, i tappi non contribuiscono, perché no? Perché gli elementi di area sono perpendicolari al campo che è radiale, ok? E rimane quindi moltiplicare per l'area, quale area? L'area che è l'area del lato cilindrico, e quindi 2πd, che è la circonferenza del tappo, che è la circonferenza, se volete, della sezione della lattina di Coca Cola, per la lunghezza latina, che chiamiamolo L, e questo è uguale a 1 su y0 per la carica racchiusa, ma quant'è la la carica racchiusa? Se questo è il cilindro esterno, che ha carica meno lambda 0 per unità di lunghezza, questa qua, questa ha lambda 0 per unità di lunghezza, qual'è la carica racchiusa dalla superficie di Gauss, che è questa qua viola, da questa lattina di Coca Cola? Quanta carica racchiusa dalla lattina di Coca Cola di raggio più grande del raggio del filo esterno? 0, no? Quindi? Questo qua è 0. Invece, se la mia superficie di Gauss è questa, la carica racchiusa è diversa a 0, perché racchiudo questo, questa qua, che è carica negativa, è fuori dalla superficie di Gauss, questa superficie di Gauss la chiude solo per la positiva, questa qua, quindi dovete convincervi che il campo elettrico, in funzione della distanza, sarà cosa? Se questo è il filo così, facciamo finta che questo filo abbia una densità di carica uniforme, perché no? Cresce linearmente fino al raggio di questo filo, ok? Quindi questo è il vostro filo interno, per punti che vanno dall'asse alla superficie del cilindro interno, cresce linearmente, poi da qua a qua come decresce? 1 sulla distanza, quindi questo decresce 1 sulla distanza, questo cresce con la distanza, questo è proporzionale, e arrivata a questa distanza qua, cosa succede? Il campo elettrico è così, il campo elettrico fuori, vi faccio il disegno questo è chiaro, questo è un filo carico positivamente, questo è un filo che vi è coassiale, che è carico negativamente, questo ha raggio che chiamiamo R1, questo ha raggio R2 la densità di carica, questo è lambda 0, la densità di carica su quello esterno, la carica negativa è meno lambda 0, sto sostenendo che fino alla distanza R1 il campo cresce linearmente se la carica è distribuita in maniera uniforme qui, certo, poi per punti che sono qua in mezzo ai due cilindri, nell'intercapelline chiamiamola così, il campo decresce 1 su R fino alla distanza R2, e poi il campo elettrico sparisce, perché? Perché per punti che sono qua fuori, la carica è racchiusa dalla superficie di Gauss, quando la superficie di Gauss è qua e la chiude sia la carica interna che anche la carica del cilindro, la chiude 0 carica e quindi il flusso è 0, e quindi uno può dedurre che il campo elettrico esterno è 0 se questo fosse stato un cilindro di rame la carica non si distribuisce nel volume si distribuisce solo sulla superficie e nel caso di una superficie di rame il campo elettrico all'interno del conduttore del cilindro interno sarebbe stato 0 quindi nel caso di rame se fosse stato così avrei avuto il campo solo nell'intercapedine fuori da entrambi i cilindri il campo è 0 nell'intercapedine il campo è 1 su D esattamente come quello di un filo che abbiamo dimostrato, in mezzo al filo interno dipende se la carica è spalmata uniformemente o è solo sulla superficie o magari distribuita in maniera lineare quindi qua, questo è il caso che sia di metallo, questa è la distribuzione lineare e se è distribuita in maniera, questa è la distribuzione uniforme voglio dire quando è lineare il campo, questo è quando il campo e le cariche sono solo in superficie e quando invece le cariche sono distribuite in maniera che dipende linearmente con la distanza avrei una quadratica qua o altre dipendenze eccetera il messaggio è che nell'intercapedine ho la dipendenza 1 su D fuori da entrambi i cilindri il campo è 0 c'è un'analogia meccanica c'è un'analogia magnetica proprio sono stanco, continuo a sbagliare le parole c'è un'analogia meccanica ma l'ho detto è la seconda volta c'è un'analogia magnetica c'è un'analogia proprio fuso oggi eh fuso fuso immaginate che questo sia due cilindri coarsiali in una ho una corrente che circola così e in una ho una corrente che circola in direzione opposta cioè nel cilindro interno per esempio questa è la sezione trasversa questo è il cilindro interno che so la corrente viene verso di voi e su questa superficie qui la corrente va dentro la vania questo è un esempio di un cavo coarsiale no? avete il conduttore interno e il conduttore esterno quindi il conduttore esterno è un cilindro cavo e lungo l'asse del cilindro cavo c'è un altro conduttore che è al centro ok? questo è un cavo coarsiale e vi chiedo di discutere il campo magnetico nell'intercapedine come sarà? la stessa cosa no? la stessa cosa sapreste convincervi? come è il campo magnetico nell'intercapedine di un cavo coarsiale cioè nello spazio tra il conduttore interno il cilindro interno e il cilindro esterno il conduttore esterno questa si chiama la corrente di andata e quella della corrente di ritorno le correnti di andata e ritorno sono uguali in direzione opposta quindi la corrente di andata e la corrente di ritorno come è il campo magnetico qua in questo punto facciamo prima il caso che il filo sia filiforme dovrebbe essere evidente che il risultato sarà molto simile facciamo guardare il caso del filo ciccione per un punto matematico che hanno questo il raggio R1 e questo il raggio R2 d'accordo? supponiamo che nel filo nel filo interno la densità di corrente sia una costante cioè la corrente è distribuita in maniera uniforme nel filo interno ok? quindi se questo è R1 e questo è R2 il campo magnetico come dipende dalla distanza? se è distribuita in maniera uniforme la corrente il campo magnetico cresce linearmente fino alla distanza R1 poi scende 1 su R attenzione! 1 su R 1 su D mannaggia a me poi 0 campo magnetico fuori dal cavo ciccone 1 il campo magnetico fuori dal cavo equassiale fuori a punti matematici esterni anche al cilindro più grosso il campo magnetico è 0 il campo magnetico è nell'intercapendine ed è eventualmente nel filo interno se il filo interno ha una corrente distribuita all'interno del suo volume se la corrente fosse solo sulla superficie allora il campo magnetico serve 0 poi così e poi così se la corrente è distribuita in maniera uniforme lineare che dipende linearmente dalla distanza all'asse allora andrebbe su quadraticamente perchè è 0 fuori? perchè la corrente concatenata se questo è l'anima del cavo equassiale la sede della corrente di ritorno e questa è una curva chiusa che è equassiale quindi questo è un cerchio di ampere che sfrutta apposta la simmetria di questo esercizio che è la simmetria cilindrica quindi piazzo al circuito la curva di ampere la piazzo commercialmente e io mi chiedo qual è la circuitazione di B? questo è uguale a mu zero per la corrente concatenata no? e qual è la corrente concatenata? è 0! perchè ho una corrente I sul conduttore interno e ho una corrente meno I sulla corrente sul conduttore esterno ok? quindi la corrente concatenata è 0 da cui si può dedurre che siccome la circuitazione di B sarebbe 0 per qualsiasi curva C che io disegni qua qualsiasi curva C a fatto che abbia un diametro maggiore del diametro del cavo equassiale ho sempre 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 circuitazioni uguali a 0 quindi deduco che B è 0 quindi B qua fuori è 0 quindi l'invenzione del cavo equassiale è intelligente perchè un cavo nudo un cavo percorso da corrente crea un campo magnetico nello spazio che se ne va ovunque no? il campo magnetico uno sulla distanza dal filo invece un cavo qualsiasi ha è interessante perchè il campo magnetico c'è solo nell'intercappetile quindi il campo magnetico è confinato in quel volume, non è ovunque è solo là dentro è l'analogia latrostatica stessa cosa un filo carico il campo elettrico è dappertutto va uno sulla distanza dal filo ma due cilindri coassiali dove uno ha una carica positiva e l'altro una carica negativa il campo elettrico è solo nell'intercappetile non è fuori per esempio un piano carico ha campo dappertutto uniforme ma due piani uno con carica positiva e uno con carica negativa il campo è solo nell'intercappetile vedete le analogie? io ho imparato molto tardi a ragionare per le analogie mi ricordo molto bene mi sembrava che il programma stesse divergendo certo il programma sarebbe più grande però dovete sfruttare queste similitudini le analogie sono pericolose se uno si dimentica le differenze sono le condizioni le cose non sono uguali sono simili e quindi il problema matematico può essere una volta che l'avete capito potete forse riciclarlo in un'altra contesto ma ci sono delle differenze quindi dovete padroneggiare le differenze e sfruttare al massimo le similitudini per il programma la similitudine perché studiate una cosa la capite e la riciclate altrove invece di vedere come argomenti separati giusto? ho fatto questi conti ma neanche li ho neanche fatti quindi lascio a voi venire all'orale e saperli fare di nuovo volevo cercare di fare questo discorso a sinistra è un dipolo elettrico a destra è un dipolo magnetico io capisco come sono fatti i campi prendendo delle sonde e le sonde più appropriate per capire la forma forse è un dipolo perché il dipolo si orienta un piccolo dipolino se io mi metto questo è un dipolone è un dipolo una carica positiva come se io vado a sondare il campo elettrico creato da un dipolo elettrico come è fatto? la mia sonda propongo dei piccoli dipoli l'equivalente elettrico di una bussola lui si orienterà e vedo vedo nello spazio queste linee di campo analogamente ho un dipolone magnetico e sto cercando di capire come è fatto che aspetto a il campo magnetico creato da una spira percorso della corrente cosa uso? per sondare la forma uso delle bussole che sono dei piccoli dipoli magnetici e quindi io riesco a visualizzare il campo vedete che ci sono delle analogie delle differenze però per banco questo è un campo elettrico questo è un campo che la divergenza potrebbe essere verso zero questo è un campo che la divergenza è sempre zero vedete qua per esempio che se io metto un dipolino qui una sonda guardate la differenza se metto una sondina qua la sondina si dispone in questo modo non vi pare? le sondine qua? le sondine qua? le sondine qua? qua se dispongo le sondine vedo vedo con gli occhi che le sondine sono sistematicamente orientate in modo che il momento di dipolo elettrico delle sondine sono come gli aghi gli aculei di un porco spino quindi qua c'è una carica e quindi il flusso la divergenza del campo elettrico qua è diverso da zero quindi ho gli aculei che escono qua la sondina invece la sondina è disposta così i momenti del vettore di dipolo elettrico puntano verso la carica negativa in qualsiasi direzione quindi sono come le frecce di un cadavere eh? qua le frecce escono qua le frecce entrano ma non è così qua ci sono delle similitudini quando siete lontani ma all'interno le cose sono diverse qua la eventuale bussola è orientata così c'è un asse lungo la quale è sempre così qua è diverso vedete che la sondina qua sarebbe così questa è orientata in questa direzione questa è orientata così questa è orientata così questa è orientata così questa è orientata così invece qua non c'è questa tendenza se voi prendete la bussola e riuscite proprio a fargli fare un giro devo ricordarmi giovedì di venire con questo sacco di materiale devo prendermi una batteria perchè la batteria che ho è scarica c'è ancora un pelo di energia elettrica quindi riesco ancora a fare un po' delle corrette qua perchè le linee è così vedete? le linee girano in qualche modo non nascono non muoiono non mascono io riesco a prendere una bussola e seguire e fargli fare tutto il giro e non arriva mai a una destinazione e l'espressione matematica di questa cosa è per l'appunto che la divergenza di B è uguale a 0 qua invece io vedo che ho un porcospino qua c'è un volume dalla quale le frecce escono è perchè la divergenza di A scusatemi in questo punto qui è diverso da 0 addirittura è maggiore di 0 in questo punto è minore di 0 in ogni punto qui è sempre uguale a 0 e ci sono delle rassomiglianze ma ci sono delle fondamentali differenze non l'ho detto stamattina ma mi raccomando il momento di dipolo elettrico è le dimensioni sono una carica per una lunghezza che nel sistema internazionale avete che so che il modulo di P è uguale a tot a coulomb metro il momento di dipolo magnetico sarà tot cosa? nel sistema internazionale veloce cos'è il momento di dipolo magnetico? è una corrente per un'area qui nel sistema internazionale avete un certo numero di ampere metri quadri perchè l'analisi dimensionale di M è una corrente quindi una carica divisa un tempo per una lunghezza quadro d'accordo? non l'ho detto ma mi sorrivo a dirlo ci sono delle differenze tra l'elettrostatica e l'elettrostatica veramente importanti l'ho appena descritto in elettrostatica voi avete che la divergenza del campo elettrostatico è uguale a Rho diviso F0 invece la divergenza del campo magnetico statico e non statico è sempre uguale a 0 in elettrostatica abbiamo che la circuitazione di E è uguale a 0 perchè il rotore di E statico è uguale a 0 invece la circuitazione di B è uguale a mu 0 per la corrente concatenata ci sono delle differenze in elettrostatica il fatto che il campo ha rotore nullo o che la circuitazione è identicamente 0 questi qua ci permettono di dire che il campo elettrico è uguale a meno il gradiente di un campo scalare il campo scalare si indica con la V un modo equivalente di dire questo è che l'integrale curvilineo di E statico si intende quindi continuo a mettere ST per ricordarvi che questo è valore dell'elettrostatica che l'integrale curvilineo dell'elettrostatico da un punto A a un punto B lungo una qualsiasi curva che in realtà non dipende dalla curva ed è uguale a V del punto A meno V del punto B queste cose le abbiamo viste e quindi questo qui si chiama il potenziale elettrostatico anzi voglio infilare la parola scalare silenzio certo che queste cose le sapete già le sapete già potenziale a scalare elettrostatico manca qualche sillaba qua elettro con lo scritto elettratico elettrostatico la parola scalare perchè? perchè questo è un scalare è un campo scalare d'accordo? questa è la matematica abbiamo speso diverse ore a fare adesso vi enuncio una matematica in qualche modo similare similare ma ci sono importanti differenze massimo silenzio massimo silenzio perchè lo dirò una sola volta questo è il linguaggio quando avete un campo vettoriale che è irrotazionale come questo direte che può essere essere espressa come il gradiente cambiate il segno perchè siamo fisici di un opportuno campo scalare questo campo scalare si dice che genera il campo E è un potenziale scalare che genera il campo E come faccio ad ottenere E una volta che è uv ci faccio il gradiente in cambio di segno ok? c'è un teorema analogo che non ho assolutamente il tempo di fare anche perchè la matematica è più sofisticato che dice che quando avete un campo che è così che è identicamente 0 e si chiama un campo solenoidale solenoidale per i capi solenoidali esiste un altro campo che genera la B come questa genera la E cosa vuol dire genera? deve essere chiaro che dato la B io riesco ad ottenere la E genero in questo senso come faccio al generale E facendo il gradiente in cambio di segno c'è un altro campo che mi permette di ottenere la B a patto che la B sia di quel tipo lì molto speciale identicamente 0 alla divergenza c'è un campo che mi genera B ma la novità è che il campo che genera B non è un campo scalare è un campo vettoriale esiste un campo vettoriale che si indica con la lettera A che genera la B bravo questo campo che genera la B com'è che si genera? questo si chiama il potenziale potenziale vettoriale è in questo caso magnetostatico lo chiamiamolo magnetico ma ovviamente stiamo per il momento a fare un discorso statico è un potenziale vettoriale magnetico questo è il potenziale scalare elettrico 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 ecco come si genera B si genera B nel seguente modo che B è uguale al rotore di A questo va tatuato sul vostro corpo in maniera non dissimile da come va tatuato questo ok? si dimostra Quindi io voglio enunciare che se la divergenza di B è uguale a 0 allora esiste un campo vettoriale tale che B è uguale al rotore di A Questo è un teorema di analisi, voi dovete conoscere l'enunciato Lo voglio almeno verificare con voi Cioè voglio dimostrarvi che un campo fatto in questo modo ha divergenza nulla Ok? Dobbiamo dimostrare che la divergenza di un campo vettoriale fatto così soddisfa proprio questa condizione qua Quindi arrotoriamoci le maniche Questo esercizio non è teoria, adesso è un esercizio Quindi supponiamo che B sia uguale al rotore di A Cosa vuol dire? Allora io voglio dimostrare che la divergenza è 0 Allora arrotoriamoci le maniche, tanta buona volontà E dimostriamo Io voglio dimostrare che la divergenza del rotore è uguale a cosa? A 0 Quello è uno 0, un numero Io voglio dimostrare questo Siete responsabili di questa dimostrazione Cos'è la divergenza? Cos'è il rotore? Il rotore è questo signore qua Allora Qui Cosa farò? Io voglio calcolare la divergenza di quel vettore Quindi devo fare la derivata rispetto a x della componente x di quello Più la derivata rispetto a z della componente y di quello Più la derivata rispetto a z della componente z di questo Quella è la divergenza D'accordo? Quindi prima devo capire cosa è la componente x della componente x di questo La componente x di questo Metalmente Questo applicato a questo Quindi ho la derivata rispetto a y di az Correggetemi se sbaglio Quindi questo applicato a questo Meno questo applicato a questo Quindi ho la derivata rispetto a z di ay D'accordo? Quella è la componente x Componente y Quindi devo fare questo applicato a questo Meno questo applicato a questo Poi la derivata dalla componente z da fare E quindi questo applicato Verificate rapidamente che io non abbia sbagliato Sono esercizi questi Un continuo rimando, un ripasso Cos'è un prodotto vettore? Li faccio apposta a queste cose E' un ripasso della notazione Per quello siete responsabili Dovete sapere padroneggiare questi semplici passaggi Quindi qua Con un po' di pazienza Scriviamoli Allora prima devo trovare un gesso che sia abbastanza grande Quindi devo fare Vedete la derivata rispetto a x di questo Quindi ho la derivata seconda di a z E scrivo così Con questa notazione intendo che ho fatto prima questo poi questo Prima questo poi questo Meno la derivata seconda di ay Qu'è? Si no? Ok 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 Dov'erò? Mi sono perso? Ah sì, sono qua, giusto? Due due sono qua, quindi la derivata seconda di ay z e poi x meno la derivata seconda di ax z ay Guardate il risultato e tirate qualche conclusione Ok? Molto semplice? Molto semplice Ognuno di voi deve essere caso di farlo Molto semplice Quindi ho solo verificato che un campo magnetico Scusatemi, che un oggetto fatto così avrà divergenza zero Il teorema, non l'ho dimostrato, il teorema asserisce il contrario Che se avete B uguale alla divergenza uguale a zero Allora B è esprimibile come il rotore di una A Noi abbiamo solo verificato che il rotore di A avrà divergenza B D'accordo?